Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Yukei Watch Italia. Oggi siamo qua per il solito video che facciamo un evento, ovvero Shugo vs Niambo, che ormai è diventato Shugo e Steph vs Niambo, perché c'è anche lui. Saluta. Eh, ormai siamo diventati in due, visto che siamo ormai sposati e lui. Voi non lo sapete, ma siamo sposati. No, allora, in realtà io vengo da due ore di battaglia contro Rinne, perché sono stato tutta la mattina a battere Rinne. Sono riuscito secondo voi? Solo due volte. L'ho reclutato secondo voi? No. Quindi perfetto. Però credo che questo video uscirà dopo l'uscita dei reitappi, quindi avremo già il triplo zeta. Non lo so, adesso vediamo. Comunque arriverà a vedere il triplo zeta, tranquilli. Come vedete qua, ho già due stelle, quindi vuol dire che sono uscito a battaglia, almeno una volta. Siamo felici, almeno non sono usciti a battaglia. L'ho dovuto fare io, perché Steph non sa giocare. Allora, oggi andiamo a vedere. Dici no, non entro, non c'è l'altro, non c'è l'altro, ma tanto figo. Allora, oggi andiamo a pullare l'agnambo, come al solito vi dico le quest e vi dico anche gli stage segreti. Allora, dobbiamo andare nella prima mappa per sbloccare il primo. Andiamo indietro, andiamo indietro da qua. Ovvero, dobbiamo andare nello stage 9. Nello stage 9, che è questo qua. Di forfano. Questo stage qua, dobbiamo creare un po' di grandezza 15. Quindi va, andiamo a farlo, non dovrebbe essere troppo difficile. E basta che vado a te colpando per lo spetturare in silva, che mi ha riduto altro di gigante. Ci sblocca lo stage segreto che non so se è quello che è per l'agnambo. Adesso no, se vedete un team full hand, ma è perché appunto stavo provando a battere Rinne. E uscirà poi anche il video dove forse lo recito, forse con questo team. Quello stage qui è che spettare, c'è pazzo di non scontrare. Quindi non vengo di non scontrare, non vengo di non scontrare. Ma non vengo di non scontrare. Grazie per la tua conoscenza, il fatto di nomi. Te l'hai sempre ben apprezzata, signor. Steph, con due F. Pensavo che me lo fossi dimenticato perché non l'ho detto all'inizio del video. E invece... Allora, dovrebbero essere 15. Anzi, aspetta, facciamo una roba. Facciamo che... Ok, così dovrebbero essere 15. Vai, easy. Andiamo con Kyra, la potenza di Kyra, pazzurdo. ZZ. Andiamo un po'. Easy, 21. Easy, easy. Beh, non sono nemmeno andati in Fever. Noi facciamo tutto senza il Fever, ragazzi. Noi siamo talmente forti che il Fever cos'è? Noi non lo voglio, il Fever. Ovviamente in descrizione vi lascio il link di Google Drive per la video in inglese, quella di Yo que voce spagna, quella di spagnolo. Quella in italiano non c'è. Perché quella in italiano la faccio io. Il video la faccio io. Vi do... Quella in italiano la vedete nel video. Vi lascio quella nelle altre lingue in descrizione. Eh, ok. Ecco, abbiamo lui come stage segreto. No, sempre un altro spettrale. Sempre un altro spettrale perché siamo nella parte di Yo-Kai Watch 2. È bellissimo, Yo-Kai Watch 2. Volete la serie su Yo-Kai Watch 2? Se avete... Cioè, Yo-Kai Watch 2, che la faccio? Il più bello è che erano Yo-Kai. Qual è il tuo gioco di Yo-Kai preferito? Eh, Yo-Kai Watch 2, se lo spesso. Eh, perché è la versione completa degli altri due. Se no, anch'io avrei detto quella. Vabbè, ma Yo-Kai Watch 2 è il quintesimo, nel senso... Tutte e tre le versioni. E il tre è il quinto. Il due invece è più bello. Anche l'uno è molto bello, però il due... Sì, ma l'uno lo finisce in due ore. Ok, primo stage completato. E non è quello della Gnambo. Allora è il secondo, quello della Gnambo. Perfetto. Andiamo nella seconda mappa. Tanto deve spawnare anche la Slingshot. Non mi spawna la Slingshot. Oh, ma che è? Cosa è sta scammato? Anche se devo dire che anche Yo-Kai Watch 4 è molto bello. Ci sta, ti sta. No, ho fatto la serie sul canale. Anche Gakuen un pochino, ma Gakuen non siamo riusciti a finire. Allora, per sbloccare il secondo stage segreto dovete andare a connettere 20 puni tutti insieme nello stage 23. Quindi stage 23 è questo qua. Con la borsa, con il K lavoratore. Lavoratore bellissimo con la valigetta. Dovrebbe rappresentare tipo il giapponesino medio che va a lavorare e che non ha voglia. Si vede anche dalla sua faccia che non ha molto voglia di lavorare. Anche Stefano non ha molto voglia di fare i video. Però lo costringo a farli. Dai, ve lo lascio in descrizione. Così andate a vedere i suoi video ed è felice. Ti faccio pubblicità. No, c'è gente che... Eh vabbè, scritti in più, è uguale. Se volete potete anche abbonarvi. No, non è vero, non ci sono ancora gli abbonamenti. Dovremo scoprire come mettere gli abbonamenti. Però metteremo gli abbonamenti un giorno. E io mi abbonnerò col codice... Col codice Fabio. Ah, così io ho codice sciogli. Cosa c'è codice sciogli? Su quale gioco? Dovrebbe però mettere il codice creatore su PuniPuni. Su tutti i giochi mobile c'è? Ok. Nello shop. Quando fate le multi mi supportate. Nello shoppate le ne hanno usate il codice sciogli. Anche. Dimmi che sono 20. Ho 20 preciso. Ho 28. Se no, l'ho visto 28. Boh, sono cieco ragazzi, lasciate stare. Boh, anche io, non lo so. Ok. Facciamo anche Kaira. Sì, va in tutta la potenza. Ma facciamo anche lui, sì. Eh, oggi Team Fulemma, proprio. Bammano. Infatti, a Gnambi non abbiamo usato i 12 soldi, ma l'hanno usata con i 12 soldi. Eh, gratis. Andiamo anche a sbattare la moneta d'Aruma, quella da 10, e qualche moneta dell'ottavo anniversario. Prima di andare... E io non lo so. Si può trovare l'unità dell'ottavo anniversario, perché non mi sono messo male. Eh, adesso andiamo a vedere. Adesso andiamo a vedere. E questo era l'ultimo stage segreto da sbloccare. Perché l'ultimo, il terzo, quello Rinne, lo sbloccate semplicemente completando lo stage 45. Quindi l'abbiamo già sbloccato e credo l'abbia già sbloccato tutti. Adesso dobbiamo farlo questo, perché appunto... Dobbiamo farlo per la quest della Gnambi. Questo qua è Nekomata, quello potentissimo, pazzurdo. E basta. Si. Vai, andiamo a completarlo, molto easy. Facciamo una roba così, facciamo così e via. Easy. E vabbè. Babbè, andà. Non ci perdo nemmeno tempo, perché dobbiamo essere super fast a fare le cose. Ok, adesso andiamo a... Dobbiamo spettare la slingshot, però. Se spawna la slingshot, possibilmente, grazie, dobbiamo fare il livello 20. Cavolo, non ci manco un livello per i 20. Spawna. Eccolo qui, appena detto, è arrivato. All'ultimo è arrivato. Meno male, meno male. Il dottore. Tanto questo qua non è un evento slingshot, è un evento slingshot con la fionda. Cioè, con la freccia. Con la fio... Non riuscivo a capire come dovevo tirare. C'è la freccia. No, la fionda... Fionda è l'event... Cioè... Scusa, ma... Ma slingshot vuol dire fionda. Ok, eccoci qua. Abbiamo fatto il livello della slingshot. E abbiamo la moneta. Sei pronta per andare a pullare e non trovare niente come al solito? Ebbè. Perché la gnambo ormai si sa, è scriptata a morte. Un SS almeno lo voglio trovare, dai. Ah, anzi, l'SS te lo danno, per forza. Però ricordiamo che c'è ancora... Il doppio Z è con il rate up, perché è sempre la stessa pull. Quindi, vediamo un po'. Avete lasciato like, ragazzi? Iscrivetevi. Compagninino e like. Mi raccomando, iscrivetevi. Vi vedo che non vi iscrivetevi. Iscrivete da Andrelink e non da noi. Vai, 1.2. Vediamo un po'. Non troviamo niente. Ah! Eh, va bene. È ormai. No, no. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero, è vero, è vero. Ho sbagliato, ho sbagliato. Bellissimo. Dai. Allagato. Dacci il doppio Z. Doppio Z. Doppio Z. Oh! Oh mio Dio. Io te l'ho detto che trovavo qualcosa. Io te l'ho detto. Olè. Quello non il rate up. Volevo Noah, ma non c'è Noah in questa pool. Let's go. Sono fortissimo. Mi dovete chiamare il Dio dell'Egnambo. Io sono il Dio dell'Egnambo. Basta. Shugu versus Gnambo. Stavolta vinto Shugu, non l'Egnambo. Non è quello del verità. Esatto. E quello è una cosa bella. No, ragazzi. Se non vi iscrivete dopo questo. Se non vi iscrivete, Madonna Santa, cosa vi succede? Andiamo a svuotare l'altro. Non commento. Guarda, non commento. Non commento. Non commento. Boh, sì, si può usare in alcune cose per i generosi. Non commento. Non commento, ragazzi. Il video può terminare qua. Il video può terminare qua. Andiamo a svuotare questa. Ragazzi. No, no. Ci mancava lui. Ci mancava lui. Uno dei Dio della fortuna. Madonna, che video è, ragazzi? Ma che video è? Sto male. Sto male. Io vi ho detto che io sono il Dio dell'Egnambo. Anche le sfere. Grazie. Grazie delle sfere. Vedi che svuotare prima l'Egnambo porta fortuna. Te l'ho detto. Io te l'ho detto. Io te l'ho detto. Devi ascoltarmi. Vai, adesso qua troviamo qualcos'altro. Esatto, lavoro. Mi dai il triple S qua. Non puoi trovare niente. Va bene, il gatto. Va bene, va bene, va bene. Ci sta, ci sta. Io, ragazzi, mi ritengo a suggerire. Trovo il doppio Z, trovo. Ho trovato il doppio Z. Quello non è in rate up. Dovrei essere incazzato perché l'ho trovato quello non è in rate up. Ma sinceramente... Cioè, ragazzi. Cioè, ma... Ma iscrivetevi. Ora, subito. Voglio riscrivetevi. Voglio arrivare a 2000 like sotto questo video, eh. Non mi interessa. Guarda. Magari la sua Chiracoma. Guarda qua. Guarda qua. Ammino rete di Crystal Chiracoma, questo. In teoria. No, non è vero. Cosa sto dicendo? Aspetta un attimo. No, dovrebbe avere... Cioè, a 0,7. A 0,7. Ma vedi che legnambio sono una scammata. Mi poteva dare lui. Invece no, mi ha dato quello con 0,7. E la serie Tientelo. Tientelo. Do. Niente. Io finisco qua. Perché se continuo ho paura. Io non faccio nemmeno multi. Perché ho paura. Basta. Non pullo più. Io ho paura di questo gioco da oggi in poi. Dopo Last Shogunyan. No. Cos'era? Lightning Shogunyan. Scusa. No. Questo ZZ qui. Abbiamo il secondo ZZ Gnambo. Io sincero mi posso ritenere soddisfatto. Posso anche non prendere il triple Z. Lo voglio. Niente. È stato un po' così. È stato un po' così. Iscrivetevi. Like. Campanellina. Saluta Steph. Neste video è un po' così. Cosa... Cosa hai da dire? Se c'era no... Eh, no, non c'è. No, non c'è. Se c'era no... Madonna, spaccavo tutta. Iscrivetevi. Like. E noi ci vediamo alla prossima. Ti avete dovuto il canale per il video con il triple Z. La Slingshot. Forse anche Pokémon. Iscrivetevi. Alla prossima.